Ciao, Davy. Dovrei farti vedere una cosa, Davy. Che stai facendo? Oh no, ti prego, non fare così. Wow! Siamo facendo un bello a fare questo film. Mi è molto accettato. Cut! Abbiamo delle persone attraverso, attraverso le potezioni e facciamo un combattimento di combattimento di magica. Quindi, abbiamo molto avuto qui. Vuoi il tuo amico? È una 4B, ma è divertente. Ho cresciuto guardando ogni film di Bruckheimer. Diventerai una forza al servizio del bene e anche un potente stregone. Un segreto. Per essere in uno è un'esperienza abbastanza in mente. Ma per ora... Sei il mio apprendista. Carino. E inizio! E quindi dovremmo salvare il mondo. Vai, batti qua. Perché no? E inizio! 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 E inizio!